Nel 2009 un forte terremoto ha colpito l'Aquila. Città ricca di storie e di arte nel cuore dell'Italia centrale. Molte persone persero la vita e gli edifici del centro storico e delle zone limitrofe furono quasi tutti danneggiati o distrutti. Le conseguenze del terremoto continuano a gravare sulla popolazione che cerca in ogni modo di contribuire alla rinascita della città. Ecco perché Google ha deciso di collaborare con la comunità locale per condividere ricordi, testimonianze e ispirare la ricostruzione della città. Da qui nasce Noi l'Aquila, un progetto collaborativo dove Google mette a disposizione la sua piattaforma tecnologica per raccogliere tutte le storie, le foto, i video dei cittadini o i modelli in 3D per ispirarne il futuro. È possibile esplorare la città dell'Aquila attraverso una mappa interattiva e aggiungere le proprie testimonianze. Cliccando su Aggiungi un ricordo puoi caricare foto, video o anche brevi storie della città per raccontare avvenimenti storici, svelare segreti nascosti, ricordare le antiche tradizioni o semplicemente condividere la tua storia legata alla città. Quella bicicletta mi fu regalata da mio padre per il mio ottavo compleanno. Quanto mi piaceva quella bici. Correvo su e giù per via Bruzzo tutto il giorno mentre mia mamma cercava di fermarmi impaurita. La foto risale all'estate del 1982. Quella sera io e mio marito decidiamo di andare a teatro. Non facciamo in tempo ad entrare che mi si rompono le acque. Poche ore dopo viene al mondo Emma prematura di quattro settimane. Lo spettacolo più bello che potessi vedere. Un altro modo per contribuire consiste nel creare modelli 3D degli edifici per ispirare la ricostruzione fisica della città utilizzando strumenti online gratuiti come Google SketchUp e Google modellatore edifici in 3D. Esplora le bellezze della città e contribuisci condividendo i tuoi ricordi. Unisciti a noi l'Aquila. Grazie a tutti.